Il numero 20 è Luca che direttamente dal videogioco Castlevania Symphony of the Night per questo le luci blu perché altrimenti lo spiediamo perché non si capiva Castlevania interpreta Alucard Alucard è andato via, così come è arrivato e sparito Alucard vieni qua, fatti ammirare dalla giuria Non c'è un pompino, vero? Sì 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 Eccolo Alucard, avvicinate alla giuria, fatti vedere Perfettamente il ruolo nella notte, così come è